Diciamo che l'educatore deve essere attento ai cambiamenti, i ragazzi cambiano a una velocità ormai di 3 o 4 anni. Ogni 3 o 4 anni le generazioni sono diverse, cosa che non succedeva un tempo, un tempo cambiavano in 30 o 40 anni. Ora a ritmo di 3 o 4 anni cambia il linguaggio, cambiano le mode e l'educatore deve essere in qualche modo capace di parlare questa lingua che immediatamente attira l'attenzione del ragazzo che ha di fronte per poi veicolare quei contenuti. A scuola diciamo delle materie, nella catechesi quei contenuti della fede che sono importanti per farlo crescere.